Poi c'è l'amico Filippo, quando è l'oyunce la sera Disse un'adio mai visto, sapeva tenza manera Si vuole qualche denaro, perché è un oggetto raro Quello che conta di François, che ha guidato per accompagnarlo Jean-Thomas Stasera per il paese dei biazzoli in due Liga Ampano Tutti mandano in decati D'abord quest'anno, Coupon è un servizio di ribasto in dell'abitante Per i biazzoli e l'abitante del circondo rappresenta un'arnese per adoniscesi anche d'inverno E per provare di mantenere una certa idea di vita biazzana Ma quasi cinquantina di abitanti e biazzoli sono un'eccezione in Uruzza Un esempio da seguida per la bene Tutta questa gioventù se la dana, un figlio si è maritato la stile Se si faccia un figlio, cresceremo torna E dopo c'è tutti i nostri che vengono il marito La bene, la bene, la gioventù ce la fa la stava per la gioventù nei paesi C'erano i nostri ritti, ma non c'erano i nostri meriti E qui noi scudiamo Zwerth, che sono stato un mera Montiello, noi scudiamo, ce la batte, ce la fa di maniera Ce l'andà, se lo c'erano con il contrario I ganti vinidi si può passare a Taulino Goli dì c'è pasta, bidello, formaio, tutta la roba si lascia mandi a Daient E certi sono belli abituati Dopo c'è un'altra canzone, non sa dire in casa A mio gonfino, scritta da Carlo Antochi, tratta bella sicura di a Pieve d'Urezza Goli d'Urezza Goli d'Urezza Goli d'Urezza Goli d'Urezza